il rimaldi auto vi propone una favolosa opel adam del 2016 versione gem bicolore cerchi titanio color titanio condizioni sfavillanti come nuova come nuova auto bella divertente per i giovani neopatentati super patentati e con per chi ha più di 10 anni di patente praticamente possono usarla tutti da 18 a 100 anni interni in condizioni meravigliose notate il richiamo del bianco con l'esterno anche all'interno della vettura un volante in pelle multifunzionale è un fondo scala contachilometri a 220 orari che è un sogno punto esclamativo se vi piace questa favolosa opel adam iscrivetevi al canale innanzitutto mettete un bel mi piace e visitate il nostro sito web www.grimaldiauto.it troverete centinaia e migliaia di automobili